Partito, subito, l'Italia e Lucrezia con un riluppo, ha già preso un buon margine di vertaggio. Ripeto che non è importante vincere la batteria, ma il tempo che verrà realizzato, i 6 migliori tempi accederanno alla finale. Conclusa la prima batteria. La prima batteria, la seconda batteria, un giro per tutte le rette. Era una retta che aveva un buon margine di vertaggio. Grazie a tutti. Partita regolare questa volta del numero 90, la russa Rebecca con due gruppo, seguita dall'atleta della polisportiva Bellusco, la russa con pallonieri e via via tutte le altre. Partita regolare questa volta del numero 90, la russa con due gruppo, seguita dall'atleta della polisportiva Bellusco, la russa con due gruppo, seguita dalla russa. Partita regolare questa volta del numero 90, la russa con due gruppo, seguita dalla russa. Partita regolare questa volta del numero 90, la russa con due gruppo, seguita dalla russa con due gruppo, seguita dalla russa.